Ed eccoci di nuovo qui su Fumetterino Nere e oggi vi vorrei parlare di una lettura che ho fatto, di un volume che non vi ho mai mostrato prima, quindi questo è un videoacquisti manga alternativi barra videoletture manga alternativi e si tratta di uno spillatino in lingua inglese pubblicato da Educomics nel 1982. Educomics è una casa editrice di San Francisco che, come suggerisce un po' il titolo, si poneva l'obiettivo di educare il pubblico attraverso il fumetto ed è la riproposizione in lingua inglese di un one shot pubblicato da Keiji Nakazawa in Giappone qualche anno prima, eravamo nel settembre del 72. E all'interno di Shonen Jump Keiji Nakazawa aveva raccontato questa storia che aveva il titolo di Orewa Mita. Vi mostro intanto lo spillatino di Educomics, I saw it, eccoci, vi mostro il retro, eccolo qua. Chi è Keiji Nakazawa? Come molti avranno intuito attraverso il suo nome inizialmente, ma soprattutto attraverso il disegno, è lo stesso autore di Gendi Hiroshima, opera monumentale che in Italia è stata edita da Ikari Edizioni e che vi ho mostrato qualche mese fa in quanto ero riuscito finalmente a recuperare il cofanetto. Bene, ma prima di pubblicare Gendi Hiroshima in Giappone, Keiji Nakazawa aveva pubblicato questo one shot, I saw it Orewa Mita. Ovviamente l'aveva pubblicato in bianco e nero, mentre Educomics lo ha ricolorato successivamente, per adattarlo meglio a quello a cui sono abituati i lettori americani. Keiji Nakazawa è soprattutto, oltre ad essere un mangaka, è anche un sopravvissuto proprio della bomba di Hiroshima, lui si trovava lì in quel momento, ha vissuto proprio quell'attimo e ha anche perso parte dei suoi familiari durante lo scoppio della bomba di Hiroshima. E all'interno di I saw it Keiji Nakazawa racconta proprio la sua esperienza, senza romanzarla, è esattamente quello che è accaduto a lui in quei momenti. Dopo la pubblicazione di questo one shot, il suo editor era talmente entusiasta da spingerlo a creare una serie molto più lunga proprio su questo tema. E da qui è nato Gendi Hiroshima, che iniziò la sua pubblicazione un anno dopo l'uscita di I saw it. I saw it è uscito nel settembre del 72, mentre Gendi Hiroshima circa un anno dopo nel 73. E Gendi Hiroshima racconta e anche un po' romanza quello che è l'esperienza di Keiji Nakazawa, mentre qui troviamo un piccolissimo spillatino, molto fessibile, classico fumetto spillato americano, dove però non c'è nulla di romanzato, è esattamente quello che è accaduto all'autore. Questa comunque non è la prima opera dove Keiji Nakazawa ha raccontato un po' l'esperienza e la drammaticità di quei momenti. Infatti le sue pubblicazioni su questo tema erano già iniziate nel 68 con un'altra storia che si intitolava in inglese Struck by Black Rain. Ci troviamo quindi ben quattro anni prima la pubblicazione di I saw it. All'interno quindi di questo I saw it possiamo trovare una breve introduzione innanzitutto a questo lavoro di Keiji Nakazawa, poi ci racconta un po' le esperienze che ha avuto in quei giorni drammatici, dove spesso si dovevano rifugiare sottoterra per difendersi dai bombardamenti. Keiji Nakazawa racconta un po' anche la vita di sua madre e di suo padre. Suo padre era un artista, disegnava le insegne dei locali, dei negozi ad esempio, ma faceva un po' di tutto, coloravano anche le tipiche calzature giapponesi. E poi racconta anche brevemente dei suoi fratelli, ne aveva un bel po', purtroppo alcuni li ha persi proprio con lo scoppio della bomba. E a un certo punto ci racconta di dove si trovava e dello scoppio appunto dell'ordigno nucleare. Che cos'è che lo ha salvato? Perché lui non ha avuto la stessa sfortuna di altri che erano intorno a lui? Bene, lo scopriamo appunto all'interno di queste pagine e poi ci racconta anche la drammaticità dei momenti successivi, dove girovagando per Hiroshima trovava cadaveri su cadaveri e anche degli zombie, che erano queste persone con la pelle che colava come se fosse colla. E poi purtroppo ci racconta anche della parte della famiglia che ha perso, proprio a causa dello scoppio della bomba e del crollo della sua casa. E in generale tutto questo Aiso It è un omaggio verso il suo padre, che lo aveva sempre ispirato e che purtroppo lo ha lasciato a causa della bomba. E soprattutto un omaggio a sua madre che ha fatto di tutto per realizzare i sogni del figlio. Ha lavorato incessantemente per dare cibo ai suoi figli, ha fatto in modo che Keiji Nakazawa riuscisse poi ad andare a Tokyo e iniziare veramente la sua carriera da mangaka. Lui deve tutto quindi a sua madre e all'interno di queste pagine ce ne rendiamo conto effettivamente. Infine racconta brevemente di come è proseguita la sua vita a Tokyo, delle sue prime esperienze come assistente e poi come autore unico. Insomma è veramente un racconto toccante, brevissimo, però è meraviglioso. A me è piaciuto tantissimo e volevo anche raccontarvi, leggervi un pezzo della posfazione che ha scritto proprio Keiji Nakazawa. I saw it è solamente una piccola parte della verità riguardo le bombe atomiche. Ma io spero che tutti quanti saremo d'accordo sull'orribile e distruttiva potenza delle armi nucleari. Dobbiamo opporci alla guerra e al militarismo. Noi dobbiamo lavorare per eliminare le armi nucleari. Ecco, questo è stato l'obiettivo sia di Educomics con I saw it e sia di Keiji Nakazawa con tantissime delle sue pubblicazioni. Perché non si è fermato né a I saw it e Gandirishima né anche a quello che abbiamo citato prima, cioè Struck by Black Rain. Ha sempre parlato delle armi nucleari, ha sempre parlato anche dell'atrocità della guerra in generale. Ma la cosa affascinante, se vogliamo, è che Keiji Nakazawa non si è solamente fermato a puntare il dito contro gli americani che hanno utilizzato questi ordini nucleari. No, nei suoi scritti, nelle sue opere, ha comunque criticato sempre anche il militarismo giapponese che ha portato allo scopo della seconda guerra mondiale nel Pacifico. Ad esempio, in una delle sue opere, ha raccontato anche le atrocità perpetuate dall'esercito giapponese in Manchuria. Insomma, in quei territori occupati che adesso si trovano a nord della Cina o a sud-est della Russia. Insomma, Keiji Nakazawa non si è fermato a raccontarci Gandirishima. C'è stato una specie di prequel, un one-shot che ha fatto iniziare tutto quanto ed è esattamente questo I saw it pubblicato nel 1982 da Educomics in America a San Francisco. E oltre a questo ci sarebbe anche tanto altro quindi da scoprire di Keiji Nakazawa politicamente e socialmente impegnato e che io morirei dalla voglia di leggere. Purtroppo, per il momento, ci siamo fermati comunque a quella che è senza dubbio la sua opera più importante, cioè Gandirishima. È bello comunque avere tra le mani I saw it. Eccolo qua. Lo potete trovare forse su eBay. Ogni tanto spunta fuori qualche inserzione anche a un prezzo piuttosto contenuto. Una decina d'euro compresa di spedizioni per farlo arrivare in Italia. Almeno questo è quello che io ero riuscito a trovare. Non so adesso quale sia la situazione. Questo era quindi I saw it. The Atomic Bombing of Hiroshima. Questo era Keiji Nakazawa. E questo era l'inizio di Gandirishima. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di I saw it. Se siete riusciti a recuperarlo anche molto prima di me. Cosa ne pensate? Ci vediamo sempre qui sul fumetterino nero con una nuova puntata o un nuovo video. A presto!